ma noi abbiamo affrontato questa pandemia con uno sguardo diciamo molto interrogativo nel senso che ci sembra che quanto quanto successo vada vada interpretato nella complessità di un fenomeno che ad oggi è difficile anche capire quando iniziato e quando finirà nel senso che è un fenomeno talmente nuovo anche se perlomeno quanto in quanto quanto a intensità quanto a dimensione globale che è veramente una scommessa provare ad interfacciarsi con quanto è successo per noi in particolare è stata chiara una cosa è stata chiara che che la risposta a questa fase pandemica era già in quello che come movimento notav in parte dicevamo da anni nel senso che quello che trovevamo come dato territoriale ma anche come dato generale era questa enorme connessione che esiste tra lo sfruttamento del territorio la devastazione e la salute e la salute delle popolazioni ecco questa connessione ci sembra che in qualche modo dentro la pandemia sia un dato generale un dato generale abbastanza oggettivo poi insomma gli studi sono ancora in corso su questo ma è evidente per il momento che nelle zone dove c'è stato un maggiore impatto di inquinamento c'è stata una maggiore diffusione del virus è evidente che le zone dove per esempio è più significativo lo sfruttamento attraverso i canali della logistica sono le stesse zone nella mappatura del virus dove ci sono state significativi focolai è evidente in ultimo che il virus stesso nella sua forma è il frutto in parte di una devastazione ambientale cioè appunto il disboscamento e altri virus collegati all'agroindustria e quindi il tema che ci siamo posti noi è come affrontiamo questa complessità questa enorme questione che vista dal lato del capitale in qualche modo offre un vantaggio cioè il fatto proprio di essere complessa di essere non immediatamente imperscrutabile e però dal nostro lato anche offre una serie di opportunità perché offre l'opportunità di dimostrare che tutte quelle lotte quei conflitti che si danno sul terreno dell'ambiente sul terreno della salute sul terreno del lavoro hanno un filo rosso comune che non sta soltanto come dire nell'essere conflitti lotte di chi è sfruttato di chi sta peggio contro il capitale ma sono lotte conflitti che parlano immediatamente dei limiti di un sistema di sviluppo che è oggettivamente insostenibile e la cui crisi rischia di portare completamente alla disintegrazione la civiltà le forme sociali in cui siamo organizzate nel bene e nel male ecco a partire da questo siamo andati sul concreto ecco e il concreto qual è il concreto è che mentre la pandemia da un lato ci costringeva a stare chiusi in casa dall'altro lato emergevano sempre più lotte sempre più conflitti sempre meno codificati probabilmente più scomposti però dentro queste lotte dentro questi conflitti c'era la possibilità di vedere questo filo comune e c'era la necessità ci sembra appunto di riconnetterlo ecco da questo spirito è partita la questione della carovana se andiamo a vedere i nostri territori per quanto riguarda ad esempio la carovana del nord noi siamo insomma in questa enorme valle che è la più inquinata d'europa che di fatto è la coda della catena del valore tedesca in cui poi tutti i meccanismi dello sfruttamento della devastazione tutte le avversità di questa di questa forma di sviluppo precipitano in una serie di conflitti ambientali dispiegati in territori diversi ma che alla fine in fondo hanno tutto lo stesso lo stesso lo stesso spirito la stessa necessità cioè quello di dire che questo modello di sviluppo ci sta uccidendo e non è più sopportabile allo stesso modo se andiamo a vedere al sud troviamo una serie di conflitti una serie di lotte che che ci parlano della violenza di un estrattivismo in un territorio che viene considerato estremamente periferico come quello del sud dove lì proprio c'è soltanto l'aspetto negativo soltanto l'aspetto avverso di tutta questa devastazione ecco quindi per noi riconnettere queste lotte era avere anche una cautela una volontà di non partire semplicemente da la costruzione di un di una di una grande mobilitazione nazionale o cosa del genere non crediamo che siano tempi per questo ma che fosse che avesse come scopo quello di passare nei territori di indagare quello che succede nei territori di confrontarci parlarci perché pensiamo che solo nella costruzione nella costruzione di questa ipotesi generale di un conflitto sulla salute lo sfruttamento il lavoro che tenga che faccia di questa complessità una forza solo in questa ipotesi qua c'è la possibilità nel tempo di vincere su ogni singolo territorio noi in valle siamo una lotta che va avanti da 30 anni ma abbiamo bisogno come non mai di ogni lotta territoriale perché crediamo che da soli non possiamo vincere che da soli in bassusa la battaglia si perde proprio perché crediamo che la forza di quel movimento del movimento notabile di quello che abbiamo portato avanti negli anni sia di fatto l'essere allo stesso tempo una forza territoriale con un pensiero generale ecco quindi insomma chiudo invitando tutti e tutte alle prossime tappe poi al fondo ne parleremo ancora e insomma grazie mille ancora per per la possibilità di intervenire grazie mille ma